e voilà ecco il piwi cs 400 ritornato nuovo uno lo può vendere in negozio come giacenza di magazzino il piwi cs 400 ritornato nuovo lo può vendere in negozio come giacenza di magazzino perfetto col diagramma ultra immacolato sopra sembra neanche vero questo qui è del 1983 dunque quest'anno tanti anni ha 83 93 2003 2013 2023 40 anni giusti secchi e sembra appena uscito dalla fabbrica ecco qua bene ecco lì sono stati tutti i miei prodottini tipo nitro pulisci contatti nero spray apposta per questo nero qui che sarebbe questo qua questo qui poi c'è l'opaco trasparente per alcune parti che interne e questo qui è oltretutto naturalmente anche il glass per pulire insomma per calci via tutta la insomma la polvere praticamente la sporcizia eccetera eccetera bene con queste immagini chiudiamo il video e ciao a tutti e dopo vedremo un cs 800 se riusciamo a trovarlo in magazzino ciao ciao a tutti